Vai Daniele! Lui arriva da dietro No, ero là, l'ho visto là in fondo Rino Prizon e l'argento Tiger di Nokato vanno in testa da pista Mettano gli attresi di difesa E' il tersaglio che era stato centrato in chi Quindi era questa postazione Mettano gli attreverso i feriti che vengono barellati quindi e trasportati verso un punto di medicazione Si decollano Interviene la barella Mentre i due cacciano le due parole difendere l'aerop Per sempre Per sempre Lui è il tene Sì Grazie a tutti. Un minuto di silenzio per tutti i morti del Montello e del Piave. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.